bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono xyuder e ragazzi ho appena preso thanos aspetta cosa fa cosa fa no ragazzi allora a lui corre come se fosse un caro armato mega pugno poi thanos no ragazzi dobbiamo capirlo porca amice non è facile usarlo no ragazzi è troppo p ti colpiscono tutti ma è troppo p ragazzi è una figata incredibile usarlo è una figata incredibile io faccio schifo e va bene ma è una figata beh ragazzi non so se sono stato il primo a pubblicare questo video gameplay spero che vi siate divertiti a vederlo ci vediamo in live ciao nooo no sì Grazie a tutti.